perché ci mette sempre un'eternità pronto no vabbè dice qualità configurazione streaming ottimo quindi per forza sono in live o è matto vabbè aspettiamo un secondo un viewer si è resubbato mentre ero via che ti pareva sì sì sei online perché è sabato mattina di festa di festa ciao gabriel ecco gabriel in prima linea noi abbiamo gabriel quindi siamo a posto così buongiorno adesso arrivano tutti facciamo una live solo per parlare con gabriel ogni tanto perché no salve salve mi fa compagnia mentre studio ph e titolazioni no la chimica la noia è chimica a meno che non sia fotografia ph no photographer fantasmagoria power ranger phone o anche telefono volendo phone o phone l'altro phone si stavo cagando quando la notifica del gatto arrivò ma dai volgare volgare ho detto correggia in bocca ogni volta a parte il fatto che ripeto una scoreggia al di là di un microfono non è grave il problema della scoreggia è la puzza è il rumore anche l'idea che esca dal tuo culo fa schifoga non è l'odore il problema è tutto quanto quando quando ti parlano dietro ah si mi ricordo fai quello biondo che c'ha la faccia da perla mister phil grazie mille che frase di verde ti dico una cosa ti è piaciuta eh oh che troia aspetta aspetta sai chi le dice queste cose qui i secondi chiunque arriva a secondo dice questa cosa qui come no ma si perché chi vince non dice niente perché dice queste stronzate aspetta che ti linko questa è casa mia entri chi è ha resi eduardo grazie mille eduardo dove sei eccoti qua aspetta ti linko dimmi se non ti viene da ridere scusate sono cose interne sono cose private a me viene da ridere come state questa mattina di sabato c'è la nebbia da voi vi faccio vedere un po' come è la situazione qui guardate vedete che c'è del bianco fuori ecco questo è quello che vedo del bianco canim si hai visto confermo no non il bianco cretino il link ah scusami questo qui sta facendo il pantofolaro a quest'ora del mattino porca troia porca troia hai visto? sei un deficiente sei ti è twistata la giornata ma infatti è secondo lui quindi oh patca eh vabbè complimenti per il film 1 8 donne e 90 plot twist porca vacca che bello e Karim non l'hanno ancora visto eh non avevo voglia guardalo con Martina stasera tutti abbracciati adesso e non so se avete visto ma la famiglia reale ci ha rubato l'idea l'idea della foto di gruppo con i maglioncini belli vabbè ma non è un'idea nostra io so è un'idea mia nostra ma neanche come? ma l'avranno fatta tutti nell'arco di cento anni tu stai dicendo che nel 1900 scusate mi sta tornando sull'anima nel 1916 si facevano le foto con i maglioncini brutti beh sì beh sì non credo se fossero belli nel 1900 belli non c'erano ma credo che non avessero disegni avessero solo monocromatici finalmente riesco a vedere una in diretta saluti gatto da un passbroodcaster ciao erbalda grazie mille anche a lei hashtag invertito porca troia mi metto le pantofole dove sono? ci sono eh stanotte un galà di kickboxing a contatto pieno oh mamma mia semeni no? scusami ma perché c'è il kickboxing a contatto limitato e forse le palle sono vietate in quello suo no ah ma full contact vuol dire quello? non lo so perché puoi colpire cioè senza senza esclusione di colpi e quindi fai il blood sport stasera quindi puoi essere ucciso stai attento a vandare vado stanotte neanche stasera è appunto perché lui va in Cina adesso ah dove va nella Cina con la pena di cavi ah dietro quello di lì nei corridoi dietro i ristoranti che neanche loro sanno come ci si arriva eh arrivano a casa ah cazzo roia ah dove non puoi vincere per KO ah ok ah ma sembra bruttino il light contact scusa cosa vuol dire che non puoi vincere per KO che non gli puoi tirare un calcio che lo sfondi e cade a terra eh ho capito poi anche solo cioè un colpo che va a segno e basta e punto è come scherma scherma non è che devi uscire dall'avversario ho capito il punto ma se tu ma se anche se tu non gli tiri il calcio della vita che lo massacra che conosce solo tuo cugino e te l'ha insegnato no certo però c'è anche ma se non metti KO senza dargli una botta fortissima perdi comunque per dire no non credo che tu perda però magari ti tolgono punti se non lo so come funziona io ho sempre visto l'mma che dove gente muore pure quindi ha risolto il problema con la mod della mappa su skyrim no però ne ho giunti altri adesso vediamo anche perché è un pochino che non apro skyrim e quindi guarda approfittiamo tanto chiacchierare se chiacchierò uguale su skyrim ok le c'è daedalic chi sono i daedalic è lo sconto del publisher daedalic che ha fatto shadow tactics gigante no su steam si ah sono quelli di deponia ok grandi sconti più o meno grandi sconti c'è deponia complete journey a 14 13 euro e 59 nel caso qualcuno fosse interessato per il resto non è che veda chissà che oddio c'è un gioco scontato del 90% immagina di poter muovere le montagne letteralmente con una fisica realistica adesso momento qual'è la fisica realistica ma va a cagare va è un gioco scorrimento vaffa il culo dov'è la fisica realistica cosa volevi fare Godzilla eh sì eh sì mi prometti la fisica realistica eh allora dov'è qua Elder Scrolls e non mi va The Hunter Primal io voglio giocare ma non mi funziona mi rimane la splash page forever avevo letto Philpato avevo letto infatti ne ho scaricato un'altra mod ci sono i tre deponia 1,99 se non ce li avete comprateli i deponia sono belli se sapete l'inglese sappiatelo l'italiano mi sembra di no forse c'è una traduzione amateur però amateur oddio è uscito un DLC di Shadow Warrior compro The Way of the Wang tu l'hai finito poi tacche eh ma scusa hai gratuito ma meglio ah Shadow Warrior 2 The Way of the Wang è già nella tua libreria Steam wow è una pace in realtà allora qui non vedo novità oh player blink fix cos'è che così posso fare così quando gioco a Skyrim mi sbircio però non mi fa vedere non ho voglia di leggere ma perché li ho giocati in inglese i deponia sono stronzo eh magari li ho giocati prima che venisse messo l'italiano non sono sicuro adesso mi viene il dubbio non mi ricordo li ho giocati porca troia mi viene il dubbio eccoci qua cosa stavo facendo l'agenda dei ladruncoli vero no ah no si beh dobbiamo finire l'agenda dei ladruncoli c'è la complete journey con il commento degli sviluppatori ma dai mentre sto giocando mi dice che fastidio incredibile col dito sulla spalla ah che fastidio scusa ma lo sai che qui ma porca troia ammazza che fastidio ma non è stato io a farlo e diventa uno di quelli che quando vai alle fiere ti si appiccica e non riesce a toglierlo uno di quei fan che non riesce a togliere che lui tu vorresti andare a mangiare con la tua ragazza e lui dice vengo anch'io va bene no non va bene non va bene e diventa uno di quelli sviluppatori lì guarda noi staremo tornando a casa eh tanto anch'io devo andare da che parte vai eh verso corso si anch'io ah che fa e io mento spudoratamente la signora maven rovo nero dicendole sono il numero uno in quel che faccio e non si sa quello che faccio però quindi ah è wolverine non lo diceva wolverine che ammazzava la gente guarda di sì ah hanno fatto vedere i primi 40 minuti di wolverine l'ultimo alla critica ne sapevi i film sì no e hanno detto queste due cose uno che wolverine è più animalesco rispetto al passato aspetta che ok ok e due che la signorina ogni volta che entra in scena ruba la scena a quanto pare gatto si vede tutto nero dicono palle perché si vede nero vediamo un po' effettivamente è vero che si vede nero sai perché? perché non avevo attivato la cattura del gioco era una cosa che ci poteva stare diciamo oggi è così ragazzi dai guardiamo un po' si vede nero dai va bene va bene signor ci penso io ecco qua adesso si vede siete contenti grazie Gabriel che lui aveva scritto perché lui è Gabriel gatto non si vede comunque non è che non si vede un attimo e tutti diventano matti me ne sarei accorto prima della fine della live voi che vuoi che sia ma voi siete qui per il gioco o per lui non l'ho capito non l'ho capito io scusa eh e vedi nero uguale perché adesso io non vedo più una madonna allora fammi vedere la mappa vedi che bella che è la mappa adesso ci sono due stradine fanno un po' cagare ma almeno ci sono due stradine qui qui sembra un butter dimmi se questo qui non sembra un luogo dove si va a fare la cacca di qui dobbiamo andare non è che mi faccia impazzire in realtà la mappa vista così senza la nebbionina però almeno ci sono le stradine eh ma è la mappa di Skyrim è una merda beh non è migliorata cosa vuol dire che gli ha messo no rimane una merda ma almeno c'ha le strade che tu puoi dire ah se vado a destra arrivo lì con l'altro no dici più o meno sono in quell'area lì non so è la mappa di vabbè non posso dire va bene spoiler ah ho capito eh c'è un problema qui con la neve mi scusi cosa succede hanno suonato ho sentito però arrivo quindi grazie mille per essere passati noi ci rivediamo domani con un live di Odro Track sempre qui nella live del gatto ciao grazie mille scherzavo scherzavo eh non andate via non andate via sono un attico credevo fossero poi si offende se non vi trova più si offende uno vi invita a casa sua poi va andate via all'improvviso lui dico vado in bagno e poi va via e la fine non 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 andate via fa brutto è brutto no è fa bruttissimo comunque vedo che qua in sconto c'è Sherlock Holmes The Devil Daughter che è l'ultimo uscito mi sembra anche caruccio ha 17 euro e 99 al posto di 44 che prezia ha questo Sherlock Holmes che si vede nella live di gatto chi la segue aspetta andiamo un po' non riesco a guardarla in tempo mi sa che torna prima dov'è? mi scusi signor io toby si è sabato oggi si è un corriere mi è arrivato ma certo è Amazon se l'avessi preso di mercoledì arrivava oggi ma io non ho preso un cazzo sarà un regalo apriamolo aspetta che almeno rimetto la webcam grande così tanto devo fare questo le ah che caldo che non è vero ho fatto due piani da oggi con Twitch Primer questa è casa mia season 1 season 1 bene espion grazie mille ah i signor vabbè mi aveva fatto l'adorazione come cosa preferite come GDR tra Skyrim e The Witcher 3 o in generale tra Elder Scrolls e The Witcher non lo so come combattimento sicuramente The Witcher però è che non vuol dire niente tra l'altro tra combattimenti di Skyrim e The Witcher sono uno feggio dell'altro come gameplay dai diciamo però sai che Skyrim Skyrim è più bello se vuoi esplorare se vuoi esplorare è più bello Skyrim se vuoi una bella storia un bel mondo esatto come narrazione tutto quanto The Witcher sia principale che secondarie sono tanta roba zio però allora è un pacco gigante ma è un regalone eh sì perché c'è il pacco regalo io vorrei dire che sono l'unico stronzo che non si osa dare la 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 lista dei consigliari fino all'altro ieri certo che rosico ma io non faccio non chiedole l'emogina dei regali di Natale quindi preferisco l'albero vuoto eh che tristezza che mi fai e io lo apro adesso perché mi spoiler cosa mi scrive qui signor gatto 92 scritto nel biglietto signor gatto 92 l'ho voluto fare un regalo di ringraziamento per tutto l'impegno che mette nelle sue live e nei suoi video sperando che tale dono la stimoli a continuare su questa strada del migliore dei modi ma grazie ma chi è e io voglio sapere non c'è non si è firmato è un libro di fisica 2 ah sì così dopo parliamo dei colori aspetta il biglietto lo tengo ma io vorrei sapere il nome un po' di nome qua vabbè bellino mini che brutto cosa hai detto cosa hai detto ma perché non l'ha firmato ma no ma perché siete stronzi che non firmati i regali adesso vedo che dentro c'è una cacca ti immagini visto che lei piace baciare persone a caso nel luogo che lei dice sembra un water ci sono le signorine nude che si fanno il bagno ma come cosa in skyrim non me le ricordavo le donine nude io mi ricorderei una cosa del genere come apro questo pacco meraviglioso fatto da amazon sono belli vi faccio vedere il retro non so cosa sia che cos'è che cos'è sto facendo rumore per caso ma dai ma il microfono what a twist what a twist della rode io voglio sapere il nome però grazie ah no deficiente questo qui è un coglione pronto? di di ma che vuoi ma ma wow che twist e il nome road vi dillo dai ho sentito dell'interferenza nelle cubi sei stato tu? no no e il microfono? è la fine? no non l'ho neanche tirato fuori dalla scatola grazie persona anonima che mi ha fatto un regalo che brutto da dire però ma non c'è scritto magari nel foglio aprirlo piano e chiamagli artificieri ma come vediamo un po' qui se c'è scritto qualcosa no non c'è scritto niente ma vai io voglio sapere forse qui questa dispedizione è 2 dicembre no niente no io voglio sapere chi devo ringraziare mi sento hanno detto sono gli alieni gatto metti la stagnola in testa come il famoso film e science qualcuno è che lo so difficile ma si tutti da lì in poi è diventato un delirio è diventato un meme da lì in poi na 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 perché perché un conto era il bambino un conto era il fratello maggiore aveva 60 anni sto cazzo di bavero sulla testa io lo apro e lo voglio testare già adesso ma non testarlo in live non lo testo in live fa casino magari aspetta un attimo va ve lo unbox e basta all'oggi fai vedere nella live di stas che non ci sono porca troia porca troia non ci sono oggi non ci sono ah metta pino metta pino vi capite della penna guarda che bella che è questa scatola con sopra del soffice polisiere ho la stessa scatola a casa che non so dove buttare perché è gigante mamma mia la cazzo di differenziata scusa ma l'antipopera è fasullo è fatto di ferro eppure funziona funziona ah il treppiedone da piede poi abbiamo di tutto abbiamo non so come aprire senza rompere tutto io rompo tutto di solito no anche questo c'è un cavo di 7 km non mi ricordo eh sì e io adesso non so dove mettere tutta questa matassa il cazzo di treppiede sbilanciato per dirvi io devo andare da qui a qui per collegare il microfono 8 km vabbè me ne farò una ragione qui cosa c'è una borsetta di pelle perché c'è una borsetta di pelle con dentro le istruzioni c'era bisogno adesivo e istruzioni ma scusa anche tu avevi la pochette in pelle mi sembra di sì e serve a e però non serve a niente ai cavi forse a portare i cavi perché il microfono non ci stava non ci stava dentro profuma di pelle non è vero sa di plastica come beh certo e il microfono adesso lo rompo sicuramente non sono così ricco dice Gabriel uno di noi che bello questo mattone di gomma a piume che schifo io voglio sapere chi è stato però ah qui c'è un tappo che si stappa ah e c'ha come si dice l'attacco usb come ne stampanti pure questo la madonna ah che freddo papa frenzi con questo euro si può prendere un caffè da dio ah devo andare alla lavazza grazie è freddissimo ho freddo le manine bene questo qui ci sono le manine che bello la manopola fisica che non devo star tenere premuto con il cazzo di coso e questo qui è il treppiede sbilanciato di cui parlano tutti sulla rete e con tutti intendo carimuse ah e come va messo senza che mi esploda così immagino ah bello faccio vedere era squallida e vabbè dai insomma ognuno fa quel che può fa le battute che gli riescono meglio io vado a Zelig e ci vediamo lì buono poi dopo lo testerò ben bene e me lo infilerò anche nel retto beh non è così grosso come mi lantavi tu comunque mi lantavo deficiente ti ho fatto vedere la foto deficiente ti ho fatto vedere la foto era grande guarda lo metto davanti la webcam e da me non si vede vedi da me non si vede non vedo la live non so se mi stai sì non ti sto grazie mille persona ciao Gabriella dopo torno allora games grazie ancora benefattore sconosciuto perché non si è firmato che dubbio che mi ha messo nella mia vita ok eccoci sto andando ad ammazzare della gente con queste texture di neve che non sono texture di neve oh mamma mia ma io non posso entrare qui cosa succede è tremendo questa è casa mia questa è casa mia gunslinger grazie mille per la sau scrub jones dovrei avere un boccale pulito qui da qualche parte detto da un la rocandiera io non so come reagire ad una cosa del genere dicevi è uscita una cosa strana ieri di cui mi è arrivato il link solo adesso è uscito un trailer di The Binding of Isaac Afterbirth plus che cazzo è è un'espansione gratuita va bene va bene andiamo dicono Karim guarda il twitter di Sabaku l'ha twittato pure Sabaku e vabbè cioè cos'è ma vabbè ma mi hanno rovinato coso qua cioè io non ho più le texture di Whiterun perché hai saputo quei dannati maghi hanno allora let it die avete rotto i coglioni con consigliarlo è una merda porca troia perché io ho visto il gameplay e io mi sono rifiutato di scaricarlo io l'ho provato ed è atroce ragazzi è ingiocabile quasi è una merda però vado avanti perché il concept mi interessa però minchia tutto il resto a livello di gameplay è un free to play è letteralmente un free to play io vorrei sapere perché ne parlano così bene tutti comunque non mi sembra così eccezionale ma infatti è Dead Rising però da solo in un corridoi in corridoi non so per ora almeno ma è roguelike non ne ho idea non ho giocato così tanto per capire non so cosa sia successo a Skyrim ma si sarà glicciato un pochino forse dovrei uscire e rientrare adesso vediamo se peggioro lo faccio io lo so quanto costa il microfono era nella mia lista desideri di Amazon però non so chi me l'ha regalato è questo che se mi avvicino tanto le texture ricompaiono però guarda bisogna sbatterci la faccia I can slash è ok no si è quello va bene robo devo sapere se grazie ciao pelatino mi stai prendendo sto aspettando il capitano delle guardie per fare se vede la distilleria in questo stato per me è la sul serio spero non ti aspetterai una ricompensa finché il lavoro non sarà stato completato persuado io invece ragiono diversamente per cui scordatelo va bene va bene ecco eccoti la metà ti chiedo solo di eliminare questi parassiti una volta per tutte prima che la mia reputazione vada completamente ho comprato del veleno stavo per chiedere a quel fannullo metti il veleno nel nido dei parassiti questo non tornare da me finché anche l'ultima di quelle creature non sarà morta ok allora tanto devo andare di sotto qui è stato Karim nella sua modestia e non dice nulla Karim mi chiami il gatto 92? bagnano va bene tanto dopo abbiamo un video da vedere a parte che noi abbiamo un video molto lungo da vedere eh credo che sia lo stesso dice che è lo stesso è molto lungo no però ah no? è più o meno è di un gioco che doveva uscire molto tempo fa sì e allora vedi che quello lì quanto dura non me lo dire che dopo capisco non dire però ci siamo capiti no? è la quest del pifferaio magico eh sì però senza piffero ma che c'è spider man è solo magico mi hanno regalato Isaac Rebirth ma perché mi sei chi fu vado a vedere ma muori spider man ma scusa ma chi gliel'ha regalato non poteva aspettare il 3 gennaio e gli regalava quello plus perché perché adesso se vuole il plus se lo deve comprare Tenga si diverte aveva un po' di soldi da attirare a qualcuno visto che questo gioco mi piace molto ho pensato di regalarglielo grazie mille mannaggia io sono contento va bene va bene va bene va bene c'è scritto un suo fan e la mail se leggo la mail non posso leggere la mail nome e cognome no però è final weapon non dico il resto grazie mille final weapon thanks sono contento perché quello lì era da un po' che lo volevo e se mi piace mi lo compro il plus va bene va bene eh potevi comprartelo prima che almeno ci facevamo tutta cioè ci giocavi quando ci giocavamo anche noi noi ci abbiamo smesso di giocare eh quando ci giocavate voi io non avevo ancora preso il pc non mi ricordo vabbè queste trapo chi se ne frega figa dove sto andando a mettere il veleno qui ma qua quanti 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 ce n'è chi è è la puttana è vacca boia cosa succede ma questo qui è un mago come non uscire di qui vivo io vorrei ah ma tu aspetta ma tu The Binding of Eyes Up normale ce l'hai? si ah ok ho solo quello però che non si può fare in live perché? io lo faccio ah no il primo il primo e non si può neanche giocare col pad il primo ma la madonna come fai in double stick shooter a giocarlo con la tastiera? Wast e le freccine metti i palenoni oddio è terribile eh si grazie comunque final weapon leggi i tre ladri furtività aumentato va bene bastava leggere un libro festeggia andaltare con media world mi è arrivata un'altra mail ma questa non non è molto pertinente anzi foto anche pubblicità media world pagami dai su so che c'è i no in realtà sai che media world euronics unieuro hanno tutti le pezze al culo ammazza buono dai stanno rischiando di chiudere tutti eh si eh si esiste ancora amazon? no però si rischia si rischia come faccio a velenare la cisterna se è così alta? devo vabbè ma immagino ci siano delle scale no? per arrivare è uscito un gioco bellissimo con accesso anticipato adesso beh è uno sparatutto in terza che già è rarissimo da vedere negli accessi si chiama exoplanet first contact mi dice qualcosa? è uno space western è mio? con dinosauri eee vabbè non ti credo costa 20 euro eh per forza questa seattuna può essere scassinata se per la chiave ma puttana dove la trovo la chiave? nel guardaroba? no però c'erano dei soldi buongiorno buongiorno come sta corvo bianco? bene bene vuoi tutto a posto io sono seduto sul mio culo ma anch'io sai sul tuo culo? no non è vero come? scusa per il disturbo ma ero lì tutto solo ma hai fatto benissimo mi sentivo un po' stronzo grazie ma se te ti stronzo hai fatto benissimo ah ecco non si può più parlare tra di noi ormai veramente dimmi la verità su quel gioco lì che mi hai raccontato una castroneria sì no non è vero perché? ci sono i dinosauri sul serio? allora da un'immagine sembra uno stecosauro ma mi sa che è un alieno non è uno stecosauro stecosauro ma mi sa che è un alieno e niente non ho la chiave ma di che gioco è? o è un accesso anticipato exoplanet va bello qua dice delle cose interessanti posso leggerle? non posso leggerle lega posso leggerle? non c'è per me lega lega di che? ho perso la linea dove diceva come fa? eccolo qua diversi giochi film e universi immaginari hanno ispirato il team di exoplanet la serie tv space western conosciuta come firefly l'universo di dune i personaggi carismatici i personaggi carismatici di sergio leone e i ricchi dialoghi dei film di quentin tarantino e va bene mi sembra dovrai attendere che il capitano ha i dialoghi dei film di tarantino guarda qui il fulcro del game design di exoplanet deriva in parte dalle migliori idee e principi dei classici rpg come i mondi vivi animati di gothic 2 la notte del corvo fallout the end of cross 3 morrowind red redemption e borderlands sembra un po' un po' generico il game frame è quello di fifa 17 però non lo dicono ma questo è il tromele non uno di quei vini da sorseggiare lentamente un gatto petulante ma guarda questo cream che critica la mia bontà l'ho donato io ma grazie mille grazie no hai fatto bene mi ero sbagliato perché comunque è un dlc after life after birth plus quindi hai fatto bene hai fatto bene non sai niente non sai i nomi dei giochi non sai spanna un po' la bocca perché sei un po' allappato eh mi sono svegliato mezz'ora fa eh madonna così tardi hai fatto i bagorgi e le esplosioni di michael bay scrivo anche noi robot giganti forse ci sono i robot giganti perché è uno space western quindi può essere ah no ci sono i robot non sono giganti ma ci sono io adesso ti accaddo al tabare sky perché lo voglio vedere mettilo anche su schermo e guardati le immagini perché è come vedere un gioco tipo un gioco vecchio stile con i pianeti no tipo Ratchet e Clank con il personaggio in alta definizione western spaziale con i dinosauri i robot i deserti e le armi in futuro io non ti so dire che sei questa roba ma che si chiama exoplanet è uno degli ultimi accessi anticipati e non lo mettono in un fucile a canne rotanti exoplanet first contact esatto oggi siamo tutti i prodotti di questo prodotto potrebbero non essere adatti a tutte le età o la visione sul posto di lavoro ma non potrebbero essere adatti a tutti ma poi o alla visione sul posto di lavoro ma sul posto di lavoro non devi guardarti in stile che cazzo eh no ma infatti lo scrivono ovunque senti qua benvenuto in un aspro e cludere mondo space western esplora un pianeta selvaggio e pericoloso diventa un mercenario per una corporazione senza anima o alleati con coloni oppressi unisciti alla nuova febbra dell'oro e combatti per la tua vita hai sbagliato tu la nuova febbra no non c'è scritto lo voglio voglio la febbra dell'oro dai il gioco perfetto no quindi esatto beh come l'hai descritto è il gioco degli anni per lo più positiva ma sono quattro recensioni che saranno degli sviluppatori quindi mi dici che lo devo comprare per forza eh sì questa è una realtà che non capisco ha dei requisiti da pc del 96 più o meno come uno di taglia addirittura la spada ne ho sguainato perché ho preso una lettera da un tavolo o eccessivo l'unica recensione negativa dice che il gioco non riesce a reggere neanche i 25 frame ma vabbè ho giocato sunset ranger porca troia ti ricordo non andava così spesso così spedito ha detto che nelle opzioni manca il poter scegliere la risoluzione come sunset ranger no sunset ranger questo vuol dire ah c'è non puoi neanche scegliere la risoluzione così c'è scritto nell'unica recensione negativa ma io voglio rubare tutto voglio hai commesso crimini contro skyrim e la sua popolazione cos'ho da dire in me di pesa comunque si con la descrizione lì la scritta chiaramente macio capa tonda va bene va bene basta che abbassi la voce e prometti di non farti più beccati ciao guardia corrotta sta non dicendo tanto l'occhio umano ne vede solo 24 ma perché uno dovrebbe a parte che il wabajack è un libro importante questo qui questo me ne è il culo va bene perché uno dovrebbe mettere dentro un comò in camera sua una pentola in ghisa sono in live da una quarantina di minuti la casa dell'acqua rossa è dove tutta la gente rischia e mi va a drogarsi a Ovest di Riften non lo ricordo posso dare che abbia funzionato mi ha pagato 247 denari posto in uno un genere del marketing sì ma l'ho fatto perché così mi posso tenere in tasca le robe che mi sono inculato eh non sa non sa dice non sa tra l'altro non so se ve ne siete accorti o ne avete parlato quando non c'ero io ma su Steam è uscito un gioco di Yu-Gi-Oh no no Legacy of Duelist proprio un gioco di carte quando è uscito è decente è il 7 alle 7 e 7 gioco di carte ci vediamo lì sembra caruccio le recensioni sono positive anche perché come puoi rendere brutto un gioco di carte ci sono anche i dialoghi tra i personaggi ma Yu-Gi-Oh Legacy of Duelist c'è anche l'italiano 20 euro e guarda quante espansioni 84 euro di espansioni e tutte a 5 euro l'una tardi 4,99 ogni espansione c'è anche la questione del tuo pagamento credo che troverai questo 20 euro per avere un mazzo base eh ma ti mette un pezzo di campagna anche quindi con i dialoghi come quelle di Headstone più o meno una volta era tutta campagna troppo avventuroso eh non fa niente troppo? non te l'aspettavi? no fai fai mi credo solo alla pennaz di una casa di roccata ma c'è un butafuore che ti apre una botola e sotto c'è il locale ma io voglio adesso andare a vedere che tristezza esattamente come nella vita vera ah si? non sono mai entrato in un locale dove ti hanno aperto una botola e sei finito infatti che non sono mai andato in un locale addirittura mai dipende dal locale cioè il locale è una birreria si vabbè è un locale anche questo se non addiscono dai dai ammazziamoli tutti ho capito e non è che mi devo sbrigare io se lui ha infuriato scusami un secondo cazzi suoi qualcuno ha comprato il gioco me l'ha applaudito nella testa wow grazie si ma sta diventando sempre più bianco fuori ho paura morirò nel white talent wolf 1194 che ha comprato disonore 2 bavrissimo che bello bravo perché nonostante la loro accortezza hanno fatto la pergamena che hai trovato parlava di gaggio secondo le mie fonti è un vecchio e il suo vero nome è gullum è il scinopasto gullum è il nostro infiltrato nella compagnia del scommetto che fungeva il pato ti dice si apre la mappa e a metà strada tra rift e il paesino che ti porta dai barba grigia lato nord del fiume lago eh ma sembra interessante quindi non non voglio sprecarlo adesso forse ci faccio un video si no gatto stai giocando con qualche mod tutte come no no ha detto cioè non tutte vedi cosa sta combinando se conosco gullum guarda che ci sono in bianco va bene potremmo usare questa situazione a nostro vantaggio deve rimanere in vita va bene stavolta non commetterò errori non uccido palle bro io volevo uccidere trovo impossibile comunque che nessuno sia mai entrato in questo cimitero e abbia premuto questo pulsante che è un pulsante e si è arrivato alla gilda dei ladri per sbaglio mi sembra strano ma va bene non ci sono dubbi la gilda dei ladri è tornata è assoluto io guardo dal finestro e vedo un aurea un aurea o un aurea un aurea un aurea è scritto aurea una aurea una aurea bianca un aurea è quella delle tettone non c'è quella delle tettone sulla bellissima edition this game sulla bellissima edition ah è la special edition grazie su umdole sono stronze esatto in culano bastardi devi leggerle tra le righe hanno migliorato questo sasso ah solo quello però apri lo scrivere ammiccante però io do un po' che non faccio un quick a save e va qui saluto al gioco ma cantea dunque dimmi c'è un gioco di macchine su steam si chiama offroad paradise trial 4x4 che è un gioco per il VR ok per HTC aspetta HTC Vive Oculus Rift e OSVR è al simbolo di un quadrato dentro un altro quadrato adesso tutti i giochi ce l'hanno ok non ne ho mai sentito parlare aspetta vado a cercare ho svarito fattoria delle api giusto forse è come dici tu forse no non posso ricordarmi tutti gli affari di cui mi sono occupato è un visore che tra l'altro ha le cuffie incorporate questo è geniale intelligente beh ora che mi ci fai pensare ho un compratore che vuole una cassa di vino ardente portamela e parleremo il visore di windows open source virtual reality ah è quello di windows interessante come che non l'ho mai visto scusami è quello di windows che avevano presentato ma è già uscito qualcosa è sul sito a parte che il sito è un virus ma se vai su consumers c'è il vzx eyewear che dovrebbe essere quanti milioni costa non credo sia in vendita ah 599 cazzo però le cuffie incorporate che che beh come il vive ma scrivono anche oculus alle cuffie no il vive non ha eh scusami l'oculus alle cuffie ah l'oculus lì è vero l'oculus lift che fine ha fatto mi fa anche agare le cuffie che c'ha ancora più eh sì è anche la versione bella ah con le cuffie sono inculato una cassa di vino me la sono messa in tasca e me ne vado porca troia dimmi te se si può fare una roba del genere dicevi niente ah quindi si compra order now vediamo un attimo quanto costa ma mica lo mettono il prezzo sti stronzi eh ma come lo puoi preordinare senza pagare cioè senza sapere a parte il fatto che questo mi sa che è quello per il permesso per me l'ultimo sovrano ah eccolo qui rift eccolo qua bene non possiamo far aspettare troppo costa beh pensavo peggio 600 e tra l'altro puoi comprarti anche i touch che sono due manubrini con i tasti e l'analogico sono stato avvicinato da una donna che voleva facessi da mediatore per un grosso mi ha consegnato una borsa piena di monete dicendomi che non dovevo far altro gli ho consegnato il denaro e me ne sono andato con la copia dell'atto di proprietà no di solito quando lavoro non faccio troppe domande ogni modo ho notato che era alquanto stizzita le era stato detto di rivolgersi senza fili il non credo cos'è magia le nostre ricchezze è tutto quello che so ah ma tra l'altro minchia il rift più il touch costa 800 euro e hai le cuffie il controller touch i due sensori il telecomando quanto pare un xbox one wireless controller e un connettore per attaccare le chitarre che si usa con rock band vr a parte che è fighissimo sai che è fighissimo io voglio fare un band vr bellissimo cazzo e niente dobbiamo comprarcelo adesso il problema è che costa 800 euro insomma ottimo no è lo stesso problema del vibe e chi non odia una missione di pentinamento su skyrim quanto spaventa la gente che esce dalla porta insieme a te ho capito ansa stai parlando del nosulo thrift sei simpatico che non esiste vero hai scoperto una cosa e adesso ne parli va bene è stato inventato e creato solamente per farlo vedere ai giornalisti e alla presentazione per prenderli per il culo esatto e allora dai compriamolo nel sito ufficiale della osvr hdk costa 400 dollari che ne mi hai mentito no no l'osvr è l'altro e non è sai che puoi fare delle missioni secondarie davvero io non lo sapevo anche lei non chiude il canale a 50 milioni guarda quando arriverò a 50 milioni magari ne possiamo anche parlare quando arriverà a 50 milioni veramente il canale lo chiudi per vecchiaia perché sei morto esatto mi piacerebbe arrivare ai 100 mila iscritti prima della fine del 2017 ma non penso anche a noi ma penso ancora meno e voi state facendo fatica a raggiungere i 50 sì decisamente siamo impantanati noi però prova a mettere delle delle tavole di legno sotto le ruote e non accelerare di brutto hai ragione la razer vende osvr hd ma perché deve avere un nome del genere non si può dire è open source e ho capito che noia sta missione però non è difficile adesso vi spammiamo pesante dappertutto sì così perdo iscritti poi quasi 30 mila iscritti salutare come dice Gianluca beh no ah guarda ci hanno necessari i pixels dov'è? Aralo buongiorno mi tengo in compagnia mentre faccio colazione che poi ho dei video da montare eh va bene mi sono incaltrato stiamo come vedi ci stiamo divertendo a seguire uno che non ha la vista periferica a quanto pare chi ti ha chiesto un cazzo Dija cosa? cosa? cosa hai detto? si veniva Dija e mi ha detto ma ecco a parlare con quelli lì io non c'ho niente da dirti ma chi ti ha parlato? ma chi cazzo vuoi? chi ti conosce? hai visto per caso la live di ieri su server? no non so che cosa credo che abbiano parlato del bug non è Grimaldelli si dal titolo sembra che abbiano parlato di youtube ah qualcuno ci ha scritto sulla pagina in privato dicendo che si era trovato lui ha detto la nostra scomoda posizione però quindi non vorrei avessero parlato anche di altro hanno parlato male di te probabilmente va bene iotobi ci fa schifo e ne parliamo male merda merda culo e culo chi non lo dice buoni affari per la compagnia dell'impero orientale o poi c'è uno scritto sulla pagina in privato dicendoci guardate che mi sono ritrovato disiscritto dei vostri canali senza sapere perché qualcuno mi vende qualcosa non so cosa vuoi un etto di crudo no bisogno di Grimaldelli però non saprei dove andare a a ciularli li pago anche buoni tiri però leggi il principe mendicante spoiler ma le final fantasy mi piace perché posso prendere le bottiglie di vino va beh che sono vuote però se voglio rubare cioè voglio prendere del formaggio e i dar lo devo rubare c'è la bottiglia di vino vuota e non ne frega niente dai fabbri o dai locandieri e io penso fossero locandieri questi deficienti invece dai torniamo indietro palle tutta sta strada per il cazzo mappa quel cazzo era il fabbro solitude si gabriel bravissimi abbiamo fatto quando youtube ti consiglia tutti quei video spoiler di qualche gioco clash video spoiler come? video spoiler di clash come fai? va a finire male la sorella di erica che brutto nome ti danno signora e non c'è nessun fabbro però puttana la schifosa qui formaggio è prezioso mica cazzi giustamente tra l'altro non so se avete visto ma sta girando un video che ti promette di ricevere cose gratuite da amazon tramite tramite questo sistema tramite questo sistema di te lo regalo cioè il venditore ti regala l'oggetto e tu lo recensisci come si fa già su amazon il problema è che c'è questo video di questa signorina che parla seduta sopra una scrivania che te lo spaccia come se fosse un sito affiliato ad amazon e lo chiama amazon qualcosa ah è l'equivalente di quelli che dicono dobbiamo cambiare il contratto dell'enel si esatto poi clicchi ed è un sito che non a parte che visivamente è cina che si vede benissimo che non è affiliato con amazon scrolli e c'è anche scritto addirittura ma dai però e questo video ha 100.000 visualizzazioni sopra la rampa sopra le scale sopra quella salita e io non mi ricordo però quale rampa quale salita quale casa quale luogo e quale lago e infatti e infatti quindi torno indietro e vedrò di capirci meglio amazon trade review esatto lo chiamano così però non è non è non è per caso è art si mi so che eh non non ho presente hanno scritto amazon prime amazon prime fa sempre ridere perché non sanno dire la r hai capito gatto è vero usano le l perché sono cinesi non sanno dirla io ho capito non ho piano va bene non ho piano non c'è la r eh no perché i cinesi arrivano sempre tutto amicidio anche poi con un altro ha comprato un gioco e lo scopriremo a breve grazie a corvo in bianco va bene comunque la live dei coedus server parla di dell'asguardian e del video che hanno scritto in chat ah scusami apri fabbricante di frecce ma questo fa le frecce e basta che fabbro di merda eh un po' si buongiorno non c'è ah eccolo qua è un uomo di colore salve è il primo che vedo in skyrim salute e benvenuto non mi sta arrivando perché probabilmente mi ha bofferato così tanto che sono in metro di mezz'oretta però antico arco 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 non vende i grimaldelli tacci sua forse un giorno ci rivedremo quindi questa è casa mia entriera re belaschi grazie mille per la subscriptions gabriel dov'è che posso riperire dei grimaldelli di alta qualità ma anche di qualità normale mi va bene semplicemente ha sopra la rampa a destra c'è il mastro di chiave comunque noi siamo aspettati va bene c'ho messo mezz'ora gran bel gioco gran bel gioco a destra giustamente c'è fabbro di solitude ah vedi eccolo qui i bisogni degli cerchi qualcosa per proteggerti o per infliggere danni non cerco niente di tutto ciò cerco del grimaldello evidentemente tu non ci hai faccia di cacca faccia di serpente vado qui dentro la mia forgia non si ferma mai li posso fabbricare io i grimaldelli io non lo sapevo addirittura dove li fabbrichi ma scusami e dov'è questa è casa sua immagino buongiorno scusi se interrompo è vero ciò che si dice in giro è un ma porca miseria non ho mai finito il grimaldello è puttana chi ha oggetti generici o quelli affiliati alla gilda non si possono fare i grimaldelli ma porca troghetta aspetta questo qui è una è un coltello che palle e io non so ruba pinze l'ingotto di ferro vado a riften a comprarli dai ladri dai tanto col viaggio rapido ormai nel 2016 un attimo ah si basta andare nel menu di pausa a selezionare il luogo e si va ma non avere un cavallo piccolo sono trascia esatto c'è una modo per farli ah ecco marvel il grimaldello indistruttibile fa parte di una quest bravissimo gab bravissimo permesso posso ok però non diri i tuoi segreti in chat che poi diventano tutti tecnici informatici po' qualcuno me li venderà qui dimmi ma non me ne frega niente ah no ma questo qui è uno scassinatore magari mi allena nella tattica si dai oh mamma mia ok si a dopo a dopo Va bene Non me ne fregavo un cazzo Sinceramente Ho letto tutta la sua storia Ma io volevo comprare Da lui No No Va bene Gabriel Apre il porto e richiede la chiave Io non ho una chiave Ma che stai pensando? Già serve qualcosa? L'avendo alla caraffalogora Ho usato la visione notturna per errore Parla con quella con l'armatura bianca Nell'altra stanza Ah aspetta Allora non alla caraffalogora Nell'altra stanza No Sono entrato Non si va Immagino di qua No 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 la caraffa Ma allora siete strozzi Non dite l'altra stanza Erano anni che non mi veniva voglia di un panino con la frittata Eh sì Eh sì Ah che prurito Non avevo mai finito Non avevo mai finito neanch'io i Grimaldelli Comunque Guarda che qua Rubo Rubo Ah non voglio rubare i ladri Che poi mi viene in tristezza Armatura bianca Sembra che io e te dovremo imparare a conoscerci molto bene Va bene signora Io mi occupo della merce di cui vuoi sbarattare Posso anche fornirti delle scorte utili per la Certo Posso chiedere al re Ok Ascolta Faccio questo lavoro da un sacco di tempo Stia tranquilla signora La sola cosa che ci interessa Diventeremo ricchissime Ecco la tua corazza Cerca di sfruttarla No non mi dare roba che pesa Un po' di tutto sai Allora Ale Dammeli tutti Pozione di invisibilità estesa Wow Questa è magia Qualcun che sguardo birichino mi guarda Signorina Vada via Questo corpo non è identità Ho sbagliato Ci stava provando in maniera anche abbastanza pesante Perché devo parlare con lei adesso Prima di cominciare voglio mettere in chiaro due cose Dica Uno Sono la migliore rapinatrice che questa topaia di Gildaria Quindi se pensi di potermi rimpiazzare Ti sbagli di grosso E due Ascoltami bene E fai esattamente quello che ti dico Niente domande Niente scuse Certo tranquillo Allora è tutto chiaro Benissimo È tempo di metterci al lavoro Non voglio perdere altro tempo in cianci Va bene Ma Consiglia già mi solita Ah ecco per quello Va bene Va bene E io ho ancora un sacco di lavoro da fare Sì ma non mi interessa Perché c'ho altro da fare Ma È tardi Quindi salviamo Anche perché Ho detto salva 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 Ecco Anche perché siamo Sono già le 11 e mezza Io tra un po' Devo anche mettermi A far da magna Insomma Perché mica Si vive d'aria Eh Ah sì mi ricordo Sei quello biondo che c'è la faccia da pirla L'ho già fatto Gabriel Purtroppo Logan 5 Grazie mille E mi sono accorto tardi Della cazzata che ho fatto Comunque Grazie per donazioni Super Sub A Karim e Corvo Che ci hanno fatto la compagnia Di questa mattina Pro Karim si è mutato Quindi c'è solo Corvo Non c'è neanche Corvo Io voglio provare il microfono Va bene? Quindi Ciao amici Ci vediamo lì Grazie a tutti